secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie sei nella ho capito sei dentro un pentolone quello è sì quelli non hanno senso però jackapad dark souls quelli hanno senso dark souls bloodborne però ci fa così di sera che vi devo dire tocca a fare cos'è a vl che poi non erano la collana il suo cappello di hh holmes porco dio enrico di merda figlio di pezzo di coglione porco dio stai bene no questo cazzo di cose è sbucato fuori dal nulla vabbè ragazzi andatevene a fanculo voi vostra madre e sta merda di gioco oh no che cos'è bellissimo merda mexican roll con ragù carne e mais mais raga cagliamo a spruzzo che sito è punto scremativo allo fresh vai eh cagliamo a spruzzo con il mais che dite dai cagliamo a spruzzo voi frittelli di patate e pancetta crema di patate dolci con couscous perlato gnocchi di patate torino eh ok ma però dico vedi la città è la squadra ma il Lazio sa che non è una città si però dico cioè esiste ma vabbè che stiamo preghi basta ok dicevo quindi tutto questo per dire ah si lo so Damiano mi devo vergognare hai ragione che non so se tipo fare oggi non è un unboxing è semplicemente un cazzeggio perché tipo unboxiamo sai che mi ha aspetta tocca far entrare la star sì raga credo che la star stia dormendo beatamente in slot infatti adesso facciamo vedere prima che cosa abbiamo preso sì poi si vediamo allora anzi prima ancora di far vedere le cosine hanno mandato visto perché tienilo ho caldo raga cioè mi faccio vedere questa fotina che hanno mandato sempre nel gruppo dove ci sono anche fratellini grazie Rice per aver pagato per mostrare il cazzo del mio cane ringraziate Rice ringraziate Rice non per la sub ma per la foto cazzo di Eren prossima volta 50 ragione un pivo grazie Rice ecco grazie Rice per il seghino va andata a cagare partiamo 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 guardate che bella questa foto di Eren ok a dormire a casa mia nel mio letto con le mie nini la casa c'è giorno fa come oggi raga oggi l'ho aggiornato dai thank you so much al MOBA no al MOBA no al MOBA in mezzo alla mezza no no al MOBA no no amici miei li voglio bene certo no lo diciamo sempre bye bye thank you so much ciao ciao tutto il posto anche ho selezionato io perché sono una pazza schizzata del cazzo di avere come raccomandazioni tipo robe che siano 700 calorie e meno cioè insomma robe da pazza ma ci sei piaciuta Dani cosa io non piaccio a nessuno ciao a tutti ciao a tutti grazie per il settimo Gianluca thank you thank you thank you thank you e bro come va ma la grande non è vero bene ah sì questo facciamo oggi raga dall'Hotfield prevedo che hai fatto after no per un cazzo raga per un cazzo perché guarda qui quanti bimbi quanti bimbi la casa di Makima esatta immagina quanto urlano poi se inizia a urlare uno urlano tutti che bellissimo bellissimo incredibile ma che bello e bimbi guardate quanti bimbi guardate aspetta così è molto è molto peggio raga non 10.000 volte peggio questo è un gigante testicolo di pelo un super scherato peloso ma non la lascia così raga che scherato siamo la luce naturale facciamo da soli la lobby aveva un lucernario non ricordo basta che appaia decente l'assicurazione 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 sei perfetta in ogni luce tranquilla cerchi di addolcirmi ma qua restiamo qua è stesso time un pochino è stesso time dappertutto perché fai credere a tutti tutti come si chiama se Jamie sapesse la verità allora concentrati che c'è con calma dobbiamo seguire i cavi secondo me ma nel porco dio ma sono appena stato qui Cristo di Dios ho anche aperto la ah vedi là ok segui il cavo questo qua ok bello bello dai ragazzi l'hanno fatto con una coda abnorme ma vabbè che topo strano la coda era un po' troppo grossa non era un topo si era un topo un ratto quello che vuole allora 3 2 1 jumpscare no allora ci sono diverse no non era Gesù raga non era Gesù topo ragno vediamo un po' mediterra e quindi boh sono contenta e poi oggi è stata una giornata shill oddio no ecco che è mia mamma si rossa il piede sopra basta andare su chi è il figlio di 40 mignotte differente perché sei un figlio di puttana porco dio tu sei un grandissimo figlio di troia chi è il pezzo di merda voglio sapere il nome del figlio di puttana dio caro mi è morto mark ho detto l'hanno mitragliato è finita mark è il primo a morire sarebbe stato incredibile pezzo di merda oddio che sta dio ladro devo pisciare fanculo aspetta che mi sto pisciata mezzo tosse grazie adesso per il video devi andare nei palconi indietro ma come hai i palconi dio merda mi sto cagando tosse dai c'è questi che mi sparano chat tu ma te ne affanno non mi stancherò mai di te la considero una promessa cara muoiono god quando ci scommetti che muoiono snake gill mi sa che ci siamo secondo me muore lui adesso ma muoiono entrambi tutte e due ma no ma questa era bloccata però da te no 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 meri c'è scritto meri per sempre wow non è magnifico come nei dei plian nei dei plian davvero stupendo ma non penso che lo farò ma perché bello grazie mille grazie mille pino però non è male no no è bello mi piace sì io perché mi devo un po' dar cazzo tra comodo lo so sì cioè li sento questi mille euro per questo non volevo più dartela li sento questi mille euro veramente comodo no non è no ma perché poi tu avevi i pantaloni sotto ma questi qua al tatto perché io non ho niente sotto non è per niente male vuoi sentire? cioè sono morbidosi dentro cosa? no sembra stupendo volevo toccare 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 oh ma che bello palpeggio sembra magittale perché poi non mi stupendo neanche la faccia quindi potevo benissimo sembrare un ragazzo ho sentito che cioè mi ha informato Pancake che quanto pare appunto molti di voi sab o comunque sono stati organizzando un qualcosa per sabato che ho beccato a cena eccetera raga io ho detto stesso a Pancake io non so un cazzo di quello che succederà in questi giorni ma perché probabilmente anche a Lucca era tutto così last minute e gli orari sono incalcolabili in un certo senso quindi non mi sento di dire sì ci sono a cena sabato quando poi magari non è così perché non so un cazzo niente neanche ora finirò né nulla e quindi però mi fa piacere che vi beccate almeno anche con Pancake che veramente raga non sparlate di me ok se vi beccate non ci sono potete non sparlare di me un pochino un pochino un pochino un pochino un pochino eh ecco